Buongiorno a tutti. Come vedete purtroppo siamo in due e non in tre come il programma annunciava. Claudio Magris ha dovuto rinunciare alla presenza questa mattina perché purtroppo ha avuto un incidente diciamo casalingo, non di quelli gravi ma tale comunque da consigliargli di non muoversi da Trieste. Io aspettavo un sospiro di delusione dal pubblico qui presente ma probabilmente siete già stati messi in guardia dal fatto che qui vedete solo i nostri due nomi. Tuttavia Claudio Magris non è presente personalmente ma è presente diciamo per interposta persona perché ha mandato un testo e questa mattinata pensavamo di organizzarli in questo modo. Io mi farò bello delle parole di Claudio Magris leggendo questo testo. Poi Stefano Levi della Torre svolgerà la sua relazione e prevedendo che ci sia il tempo per un dibattito col pubblico l'ultima parte sarà dedicata alle domande. Per questa ragione inviterei i presenti ad ascoltare quello che vi sarà detto con lo spirito allertato, lo spirito critico allertato in vista di eventuali domande. Va bene? Democraticamente decidiamo di procedere così. Il tema dunque è la legge e la coscienza, democrazia, legge e coscienza. Cari amici e in particolare caro Stefano Levi della Torre no, mi dispiace molto per l'impossibilità materiale di essere con voi e vi prego vivamente di scusarmi. Ho scritto queste note che mi sarebbero certo servite nel dialogo con voi. Non so se si prestino a essere lette e lascio naturalmente la decisione in merito a Stefano della Torre. Ma la decisione in merito era scontata. Ed ecco il testo. Nelle sue memorie, interessanti anche se non prive di una certa supponenza, Hans Küng cita, con ovvio e sottinteso intento polemico, una dichiarazione di Josef Ratzinger del 1968. Al di sopra del Papa, come espressione del diritto vincolante dell'autorità ecclesiastica, sta ancora la coscienza individuale, alla quale bisogna ubbidire prima di tutto, in caso di necessità anche contro la richiesta dell'autorità ecclesiastica. Una bellissima dichiarazione che evidentemente Küng intende usare contro le attuali posizioni del pontefice Benedetto XVI, cosa che peraltro in questa sede non ci interessa. Ma interessa tuttavia questo primato della coscienza individuale rispetto a ogni autorità, anche a quella che l'individuo, come nell'esempio citato, accetta profondamente. Si può immaginare la lacerazione di un fedele che si sente intimamente e moralmente costretto a seguire la sua coscienza contro un'autorità che egli peraltro accetta e venera profondamente, con un senso di appartenenza che coinvolge la sua intera vita. Se il fedele segue la sua coscienza, violando così le prescrizioni dell'autorità ecclesiastica, vive un autentico e rispettabile dramma interiore. Ma la sua autonomia, la sua ribellione, non creano gravi conseguenze collettive, politiche e sociali, almeno immediate. La sua etica della convinzione, per citare Max Weber, non si pone in contrasto drammatico o tragico con l'etica della responsabilità. Certo, egli può, in quanto legato alla Chiesa, sentirsi responsabile verso le conseguenze di lungo periodo che la sua ribellione, specie se imitata da altri, potrà avere sull'autorità della Chiesa, che egli continua ad accettare. Ma tutto ciò è meno immediatamente drammatico di chi, in nome di un imperativo categorico assoluto della propria coscienza, delle, tra virgolette, leggi non scritte degli dèi, cui si appella Antigone, si oppone a una legge positiva dello Stato, non necessariamente a una legge platealmente tirannica, provocando facilmente, come nel caso di Antigone o in altri, conseguenze molto pesanti sulla vita di tutti i suoi concittadini, verso i quali deve sentirsi responsabile. Il conflitto tra legge e coscienza è tragico. Si ha tragedia quando non c'è una nitida contrapposizione di innocenza e di colpa, bensì un conflitto, nel quale non è possibile per nessuno assumere una posizione che non comporti inevitabilmente un certo grado di colpa. Sofocle non raffigura Creonte Stiamo parlando di Antigone, naturalmente. Sofocle non raffigura Creonte quale mostruoso tiranno. Questi non è un Hitler, ma un governante la cui responsabilità di governo e di tutela della città può chiedere di tener conto, in nome dell'etica della responsabilità, cara Weber, delle conseguenze sulla vita di tutti, delle conseguenze di una disobbedienza le leggi positive e di un possibile caos che ne segue. Solo la composizione del conflitto è una soluzione a questa... è una soluzione e questa composizione spetta alla politica, è il senso della politica. Ma come comportarsi quando la composizione politica fallisce? E come comportarsi per evitare di giungere a questo punto di rottura, indubbiamente fatale o quantomeno pericolosissimo per la democrazia? Ad esempio, la vicenda legata al nome di Eluane Englaro si è, pur su una scala ridotta, in qualche modo avvicinata a un punto di rottura. La coscienza che si ribella alla legge, alla legge positiva dello Stato in cui vive l'individuo, il quale vi si ribella in nome della sua coscienza, può farlo solo se ritiene di non poter appellarsi a dei principi assoluti. Scusate, può farlo solo se ritiene di poter appellarsi a dei principi assoluti. Sin dalle origini fondanti della nostra civiltà, al diritto codificato, ossia alla legge, viene contrapposta l'universalità di valori umani che nessuna norma positiva può negare. All'iniqua legge dello Stato promulgata da Creonte che nega universali sentimenti e valori, Antigone contrappone le non scritte leggi degli dèi, i comandamenti e i principi assoluti che nessuna autorità può violare. Il capolavoro di Sofocle è una tragica espressione del conflitto tra l'umano e la legge. Il decreto iniquo di Creonte è una legge positiva, con un suo contenuto specifico. Ad essa, Antigone contrappone un diritto non codificato, secondo alcuni, un diritto consuetudinario, tramandato dalla pietas e dall'auctoritas della tradizione. E la tradizione, ha scritto Pindaro, il poeta che ha pure definito sovrana la legge, nomos basileus, è regina di tutte le cose. Peraltro, la consuetudine è stata talvolta contrapposta alla natura, sino a identificarsi quasi con la convenzione, col nomos, antitetico per i sofisti e non solo per loro, alla physis, alla natura. Ma le non scritte leggi degli dèi, cui si appella Antigone, non sono consuetudini, bensì imperativi categorici assoluti. Antigone è il simbolo intramontabile della resistenza alle leggi ingiuste, alla tirannide, al male. Noi veneriamo come eroi e martiri ad esempio Sophie e Hans Scholl o il teologo Bonhoeffer che come Antigone hanno sacrificato la loro vita per ribellarsi alle leggi di uno Stato, quello nazista, che calpestava l'umanità. Le non scritte leggi degli dèi di Antigone sono ben di più di un antico diritto tramandato. Si presentano non quali elementi storici, bensì quali assoluti. Così, nell'Iffigenia in Tauride di Goethe, l'Iffigenia si oppone ai sacrifici umani perché, dice, un Dio, un valore universale, parla così al suo cuore. Ma quando ciò accade, com'è possibile sapere se a parlare è un Dio universale o un idolo degli oscuri grovigli interiori che fanno scambiare un retaggio atavico per l'universale? Punto numero due. La democrazia è, non certo soltanto, ma comunque anche, la regola che si basa sul criterio di contare le teste. sistema probabilmente scadente, ma, come diceva Inaudi, il meno peggio, visto che l'unica alternativa è quella di spaccare le teste. Ma, talvolta, può essere vero quello che grida il dottor Stockman del nemico del popolo di Ibsen. La maggioranza ha la forza, ma non la ragione. E allora bisogna obbedire alle non scritte leggi degli dèi, anche contro le leggi emanate da uno Stato democratico, da rappresentanti di una maggioranza regolarmente eletta. Anche Hitler è arrivato in certo modo legalmente al potere. A questo punto sorge un interrogativo terribile, a sua volta tragico. Come si fa a sapere che quelle leggi non scritte sono veramente degli dèi, sono dei principi universali. Siamo giustamente convinti che l'amore cristiano del prossimo, i postulati dell'etica kantiana che ammonisce a considerare un individuo sempre come un fine e mai come un mezzo, i valori illuministi e democratici di libertà e tolleranza, gli ideali di giustizia sociale, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli uomini in tutti i luoghi della Terra siano fondamenti universali che nessuno Stato può violare. Ma sappiamo pure che spesso le civiltà, anche la nostra, hanno imposto con violenza ad altre civiltà dei valori che esse ritenevano universali, umani e che erano invece il prodotto secolare della loro cultura, della loro storia, della loro tradizione, che era semplicemente più forte. e se la maggioranza non ha ragione, come grida Stockman, è facile cadere nella tentazione di imporre con la forza un'altra ragione, che a sua volta ha solo la forza. La disobbedienza a Creonte comporta spesso tragedie non solo per chi disobbedisce, ma anche per altri innocenti, travolti dalle conseguenze. La coscienza è faticoso leggere. No, mi si dice che è faticoso anche ascoltare. Vi prego di sottoporvi a questa fatica. Fatichiamo tutti quanti insieme, democraticamente. La coscienza, soprattutto per ribellarsi con fondamento, deve appellarsi a principi che trascendono la contingenza e la relatività di quel momento storico e dell'assetto politico-sociale in cui vive l'individuo che si ribella in nome della coscienza. esponendo la dottrina stoica del diritto naturale, Cicerone nel De Repubblica parla di citazione vera legge conforme a natura, universale, costante ed eterna, legge alla quale l'uomo non può disobbedire senza fuggire se stesso e senza rinnegare la natura umana. Questo diritto di natura che sente l'umanità come comunità universale passa al cristianesimo e col corpus iuris civilis felicemente ordina le cose divine e umane e pone fine all'iniquità secondo le parole attribuite allo stesso giustiniano. Col cristianesimo il diritto naturale si identifica con quello contenuto nel Vangelo e acquista una dimensione ontologica immedesimandosi con l'ordine della natura creato da Dio che nessuna legge positiva può violare senza perdere la sua legittimità. Le leggi positive ingiuste scrive Sant'Ommaso non sono propriamente leggi e ad esse non è dovuta alcuna obbedienza anzi l'uomo onesto ha il diritto e il dovere di ribellarsi contro di esse. in un itinerario complesso e contraddittorio e in un processo di progressiva laicizzazione il diritto di natura attraverso Grozio e Puffendorf e altri si collega idealmente pur senza identificarsi con essi con i diritti civili della modernità liberale e democratica. Per Locke il filosofo della tolleranza e dei diritti civili uno stato autoritario nega la natura stessa dell'uomo la dichiarazione americana del 1776 proclama che tutti gli uomini sono creati uguali e dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili tra i quali la vita la libertà e il perseguimento della felicità e anche quella francese del 1789 parla di diritti inalienabili e sacri dell'uomo due dichiarazioni rivoluzionarie che si accompagnano infatti a due rivoluzioni e teorizzano come fa esplicitamente l'americana il diritto alla rivoluzione proclamando esplicitamente che quando qualsiasi forma di governo calpesti quei principi è diritto del popolo cambiare o abbattere quella forma di governo Toro teorizzerà la disobbedienza civile il diritto alla rivoluzione come egli dice espressamente è il primato dell'individuo sullo Stato questa libertà etica e politica diviene un modo di essere una modalità esistenziale e poetica la libera vita nei boschi di Walden il fraterno incontro con tutti gli esseri viventi ma contro il diritto di natura si levano molte altre voci le quali contestano la stessa idea di una natura costante universale ed eterna Hume dice che la parola naturale citazione la parola naturale è comunemente presa in un si gran numero di significati ed è di un senso così incerto che sembra vano il disputare se la giustizia sia o no naturale per Hobbes lo stato di natura non è un idillio arcadico bensì un bellum omnium contra omnes che deve essere corretto e dunque contrastato dalle leggi Hobbes scrive invece che quando citazione quando non vi erano ancora leggi non vi era nemmeno ingiustizia perciò le leggi sono per natura loro anteriori sia alla giustizia sia alla ingiustizia anche Leopardi contesta radicalmente il diritto virgolette che si crede naturale e che invece a suo avviso è pura convenzione frutto di opinione e di contingenze storiche o errori logici in questa prospettiva il nesso tra diritto e morale viene infranto il diritto naturale viene rispinto quale arbitrario quale arbitrario dover essere in nome dell'essere delle cose così come sono e del modo oggettivo di gestirlo nessuno come Hegel ha disprezzato l'antagonismo tra ciò che dovrebbe essere e ciò che è e dunque il diritto naturale che egli considera una idealità stratta inferiore a quella superiore moralità che è l'esistenza concreta dello Stato e lo Stato nel suo esercizio della forza e della violenza può essere giudicato solo dalla storia perché solo la storia universale è il tribunale e anzi il giudizio universale questa concezione del diritto si incontra pure con la letteratura nella tragedia Agnes Bernaur di Hebel pervasa di pato segheliano e storicista la purissima e innocente protagonista e il suo amore vengono brutalmente sacrificati alla ragione di Stato i suoi carnefici come il suocero Ernesto Duca di Baviera venerano la sua dolcissima umanità e soffrono di doverla stroncare ma ritengono che tale azione e tale colpa siano necessarie e dunque giuste nel quadro di una prospettiva storica che trascende il singolo individuo la ruota grande l'è passata sopra dice il Duca Ernesto ora ella è presso colui che la gira è interessante notare come il conflitto fra legge intesa a quale istanza superiore necessaria della ragione di Stato e principi etici assoluti si è affrontato in modo antitetico per restare nel campo degli esempi letterari in un dramma di Grilparzer che nonostante l'anticlericalismo dell'autore è pervaso della tradizione cattolica del diritto naturale nella ebrea di Toledo i nobili spagnoli che per la ragione di Stato hanno ucciso la bellissima amante che rendeva ignavo il re mettendo così in pericolo il paese non si pentono di aver commesso quel delitto che essi ritengono necessario però a loro avviso la sua necessità non lo giustifica ed essi si sentono e dichiarano colpevoli peccatori e pronti ad espiare hanno agito dicono volendo il bene ma non il diritto non ciò che è giusto le non scritte leggi degli dei ovvero gli inalienabili diritti umani vengono accusati di astrattezza ideologica e moralistica cui viene contrapposta la realtà della storia e la concreta storicità di ogni condizione umana inevitabilmente diversa John Calhoun eminente politologo e uomo politico statunitense della prima metà dell'ottocento studiato in un notevolissimo libro di Massimo Salvadori attacca l'ideologia egualitaria della dichiarazione americana del 1776 e in particolare il suo principio secondo il quale tutti gli uomini nascono liberi e uguali l'uguaglianza osserva Salvadori è per lui contro natura una falsificazione che inquina la natura egli dice dunque anche significativamente che non nascono uomini bensì bambini che per lui non hanno ancora diritti analogamente nella Germania settecentesca Justus Mözer il patriarca di Osnabrück difendeva contro gli illuministi la servitù della gleba e le istituzioni tramandate dai secoli che stabilivano disuguaglianze di ogni genere così come Burke opponeva all'uguaglianza illuminista e rivoluzionaria la diversità dell'uomo storicamente e concretamente determinato non a caso Mözer difendeva non solo la servitù della gleba ma anche l'individualità letteraria contro i principi di una ragione universale pericolosamente uguagliatrice pura del gusto e della fantasia ma questi storici conservatori nemici dell'uguaglianza e talora acuti difensori della diversità scambiano un dato di fatto per un diritto come se patire una menomazione o un'ingiustizia non solo non potessero come talora accade ma nemmeno dovessero essere corrette neanche nei limiti del possibile anch'essi cadono nell'errore da essi rinfacciato ai gius naturalisti perché respingendo ogni astratto dover essere fanno di ciò che è dell'essere non una constatazione bensì un precetto un dover essere Calun che considera contro natura la liberazione degli schiavi diventa così una specie di San Tommaso o di Toro alla rovescia e forse Marx a unire paradossalmente la critica anche sprezzante al gius naturalismo e un irriducibile schietto naturalismo come diceva anni fa Carlo Antoni per Marx è la storia non la natura che deve portare alla liberazione e tuttavia rimane nel pensiero di Marx l'ideale di una personalità umana realizzata nella sua pienezza anche per lui come per Calun gli uomini non nascono liberi e soprattutto non nascono uguali ma questo fatto non è per lui automaticamente un diritto o meglio la negazione di un diritto del diritto alla libertà e all'uguaglianza la crescente negazione del diritto in natura in nome della realtà storica condurrà progressivamente a partire dal secondo ottocento in genere nella cultura europea e in particolare forse in quella tedesca alla negazione dell'umanità e di ogni universale umano come ha visto Ernst Troers la democrazia non è affatto punto successivo è l'ultimo se non mi sbaglio è l'ultimo la democrazia non è affatto insedebole qui veniamo entriamo in medias res ai problemi di biennale democrazia la democrazia non è affatto insedebole astratta o libresca come è stata accusata dalla critica reazionaria e vitalista di un tempo fuorviante e pericolosa e ora col fiato corto perché soppiantata da un'altra forma di reazione antidemocratica democrazia logica e diritto sono stati spesso disprezzati quali valori freddi in nome di valori caldi i valori del sentimento ma questi valori freddi forse nessuno lo ha messo in evidenza come Norberto Bobbio sono necessari per stabilire le regole e le garanzie di tutela del cittadino senza le quali gli individui non sarebbero liberi e non potrebbero vivere la loro calda vita come la chiamava Saba sono i valori freddi l'esercizio del voto le formali garanzie giuridiche l'osservanza della legge e delle regole i principi logici a permettere agli uomini in carne e ossa di coltivare personalmente i propri valori e i sentimenti caldi gli affetti l'amore l'amicizia le passioni e le predilezioni di ogni genere la democrazia ha scritto Bobbio non è solo un insieme di istituzioni ma anche una generale concezione della vita spesso noi stessi difendiamo malamente la democrazia avvalorando inconsapevolmente i preconcetti nei suoi confronti ne parliamo in termini buonisti falsando così la vera bontà che non è mai semplicistica né bonacciona come quando ci si precipita a chiedere al padre o al figlio di qualcuno appena ucciso da un rapinatore se perdona l'uccisore anziché di preoccuparci in primo luogo di sbattere in galera ovviamente con tutte le garanzie giuridiche il colpevole o come quando dinanzi alla bestiale violenza della propaganda contro gli immigrati anziché reagire con la chiarezza che insieme della mente e del cuore inserendo le ragioni dell'universalità e della solidarietà umana nella consapevolezza critica del fenomeno generale della sua gravità ci abbandoniamo a sparate sentimentali disorientando e irritando comprensibilmente chi ci ascolta e che giustamente può venire indotto dalla nostra balorda e abborracciata dichiarazione di buoni principi a ritenere che la democrazia sia inadatta ad affrontare la serietà del problema il che non è affatto vero per fare un esempio a caso quei genitori o quel consiglio di classe o di istituto non ricordo bene che tempo fa accusarono di poca democrazia un insegnante che aveva blandamente rimproverato uno scolaro il quale telefonava col cellulare in classe quei genitori o quel consiglio di classe boicottano la democrazia proprio perché crediamo nell'integrazione fra le diverse componenti del nostro paese integrazione che significa non diversità selvaggia ma mantenimento della propria identità nell'aperto e flessibile dialogo con le altre quando un gruppo di genitori islamici tempo fa chiesero che i loro figli fossero destinati a classi frequentate solo da scolari islamici chi è democratico avrebbe dovuto respingere con sdegno e mandare al diavolo quei genitori come avrebbe fatto con altri genitori ad esempio cattolici doc che avessero preteso per i loro figlioletti soltanto compagni di classe altrettanto cattolici doc e così la legge non è necessariamente contrapposta alla coscienza e alla vita come vuole una lunga tradizione che ci ha abituato erroneamente a considerare negativamente il formalismo della legge come qualcosa di cavilloso arido negatore della calda umanità non a caso è la grande letteratura a scandagliare i grovigli della vita anche scandagliando i grovigli del formalismo giuridico apparentemente più cavilloso che invece rivela la sua necessità per la difesa dell'umano nel mercante di Venezia Shakespeare mostra come l'umanità la giustizia la passione la vita vengono salvate da porzia travestite da sottilissimo e capzioso avvocato grazie al formalismo giuridico più sofistico che autorizza Shylock a prendere una libra di carne dal corpo di Antonio ma senza versare neanche una goccia di sangue non è il caldo appello all'umanità ai sentimenti alla giustizia a salvare la vita di Antonio bensì il freddo richiamo avvocatesco alla lettera formale della legge questa freddezza logica salva i valori caldi non solo la vita di Antonio ma anche l'amicizia di Antonio e Bassanio e soprattutto l'amore di Porzia e Bassanio potenzialmente prima turbato dall'angoscia di quest'ultimo per la sorte dell'amico voi non giacerete accanto a Porzia con l'animo inquieto dice la donna all'amato decidendo allora di liberarlo da quell'inquietudine che offusca ad Eros e di salvare dunque con i cavigli legali Antonio a differenza di chi declama le profonde ragioni del cuore pensando in realtà che esista solo il suo cuore la legge parte da una conoscenza più profonda del cuore umano perché sa che esistono tanti cuori ognuno con i suoi insondabili misteri e le sue appassionate tenebre e che proprio per questo solo dalle norme precise che proteggono ognuno solo le norme precise permettono al singolo individuo di vivere la sua irripetibile vita di coltivare i suoi dei e i suoi demoni senza essere impedito né oppresso dalla violenza di altri individui come lui preda di inestricabili complicazioni del cuore ma forse più forti di lui certo nessuna norma generale può capire e dunque veramente giudicare i sentimenti le pulsioni le contraddizioni che sono alla base di ogni gesto criminoso anche il più efferato e bestiale la ragione non conosce a fondo le ragioni del cuore che spingono il torturatore del lager a straziare le sue vittime ma semplicemente sa che pure quelle vittime hanno un cuore che ha diritto di vivere e dunque che è necessario impedire e punire con una norma generale il gesto di quel torturatore la ragione e la legge hanno spesso più fantasia del cuore capace solo di sentire le proprie inestricabili complicazioni e incapace di immaginare che esistano pure quelle altrui il cuore diceva Manzoni sa assai poco appena un po' di ciò che gli è stato raccontato spesso è tutto una gran confusione scrive Stefano Iacomuzzi qualificare l'omicidio o il furto come reati non basta per capire diversi motivi per cui diverse persone li compiono ma chi si appella a ineffabili motivazioni dell'animo per sfuocare la gravità di quei reati capisce ancora meno le persone che li commettono la democrazia ha a che fare con la vita e con quella rappresentazione della vita che è l'arte proprio perché nasce dal senso concreto dell'individuo e dalla capacità di sentire non solo di pensare che esistono altrettanto concreti e in carne ed ossa come noi individui che non vedremo mai e per i quali siamo altrettanto sconosciuti ma che hanno come noi passioni sentimenti esigenze la letteratura è per eccellenza questa capacità di sentire concretamente la vita degli altri di personaggi incontrati o solo immaginati o inventati di sentirli vivi come noi e di farli vivi come noi astratto e libresco è proprio il pensiero reazionario che si appella alla vita perché non sa immaginare sentire concretamente e vitalmente la vita se non ce l'ha davanti Heidegger aveva ragione a sentirsi effettivamente ben più legato ai suoi boscaioli della selva nera che ad altri sconosciuti che non aveva e non avrebbe mai incontrato ma non riusciva forse a capire che quegli altri sconosciuti erano altrettanto vivi concreti e veri altrettanto radicati nell'essere quanto i suoi boscaioli il legislatore che punisce la corruzione negli appalti pubblici è un artista che sa immaginare la realtà perché in quella corruzione vede non la stratta violazione di una norma ma ad esempio le cattive attrezzature di cui causa quella corruzione viene dotato un ospedale in luogo di quelle efficaci che esso avrebbe potuto avere grazie a un'asta corretta dietro quel reato ci sono dunque malati curati peggio individui concreti che soffrono nel legiferare vi deve essere coscienza ma ci può essere anche poesia Claudio Magris bene ora la parola a Stefano Levi che ci intratterrà sul medesimo tema mettendo a frutto le sue esperienze le sue riflessioni umanamente profonde di uomo che ha dedicato la sua esistenza anche lui all'arte sia pure all'arte pittorica e buona parte delle sue sottili capacità intellettuali alla ispirazione biblica e credo che anche questa mattina ce ne darà un esempio buongiorno io partirò dal 25 aprile come celebrazione di una rivolta di coscienze contro la legge del regime fascista e dell'occupante nazista da quella rivolta da quella affermazione di diritti è nata come si sa la costituzione la quale invece presuppone non la rivolta contro le leggi ma la capacità di formulare leggi tali che val la pena diciamo di sottostare ad esse più o meno questa è la cosa quindi si pone il problema due problemi grossi due grandi nodi uno è il rapporto che ci può essere tra coscienza diritto e legge tra coscienza diritto e legge l'esperienza della resistenza dice c'è stato uno scompenso c'è stato delle contraddizioni coscienza e il diritto contro la legge del regime e invece la costituzione presuppone il fatto che tra coscienza diritto e legge ci sia concordia ed armonia ecco e allora si pone un problema se quando è giusto in coscienza ribellarsi alle leggi e quando è giusto in coscienza accettare le leggi e seguire le leggi questo è un problema diciamo è un nodo forte e diciamo anche di attualità nel senso che la legge e la costituzione presupporrebbe che la legge fosse uguale per tutti ma invece c'è alcuni che sostengono il proprio diritto al privilegio e cioè che la legge non sia uguale per tutti e questo è un conflitto permanente e particolarmente acuto ai giorni nostri il dilemma se sia il caso diciamo di sottostare la legge oppure di obbedire alle leggi è un dilemma classico e i classici hanno come molti hanno notato diciamo questa caratteristica di essere attuali da qualunque tempo remoto ci parlino i classici pongono dei problemi attuali nel senso che sono problemi che è necessario affrontare ogni volta che non sono mai una volta per tutti risolti Claudio Magri si parlava di Antigone Antigone se ricordate nella tragedia di Sofocle è quella che si oppone a una legge che dice i due fratelli di Antigone Eteocle e Polinice l'uno è stato diciamo dalla parte di Tebe della città di Tebe della Polis e l'altro Polinice è stato contro la città per una questione diciamo di successione dinastica della stirpe di Edipo e quindi Creonte aveva stabilito per legge che i nemici della città non dovessero avere sepoltura e quindi Antigone si trova divisa sul fatto che uno dei suoi fratelli è stato nemico della città e lei pretende di onorarlo attraverso la sepoltura e quindi Creonte decide che invece questo è degno di condanna a morte e Antigone si oppone a questa legge chi ha ragione e chi ha torto cioè giustamente Magris dice in realtà la legge di Creonte non è una legge nazista cioè è una legge che propone il fatto che ci si faccia una netta distinzione tra chi è stato a difesa della polis e chi è stato contro la polis naturalmente diciamo la critica che traspare dalla stessa tragedia di Sofocle è il fatto che questa legge è estremamente dura perché condanna a morte chi la contraddice e Antigone può essere vista diciamo come una che invece sostiene dei valori primordiali diciamo del rispetto dei morti però anche vista come una che sostiene invece il proprio diritto dinastico a onorare diciamo qualunque fosse la posizione politica rispetto alla polis della sua famiglia a onorare il suo sangue quindi può essere visto come la sostenitrice di una tradizione che potremmo chiamare reazionaria diciamo così e chi invece ha il coraggio di sostenere un diritto umano diciamo così alla sepoltura comunque sia nel testo di Magri sia di fatto diciamo Antigone è in un certo senso il paradigma di chi decide che vale la pena che è necessario che in coscienza si tratta di ribellarsi alla legge detta positiva cioè stabilita decisa politicamente l'altro paradigma invece che si decide che in coscienza bisogna rispettare le leggi anche se ti nuocciano e Socrate nel dialogo Platone nei dialoghi di Platone Socrate come ricorderete è stato a un certo punto accusato di non rispettare le divinità della città di Atene e di corrompere i giovani e quindi viene condannato a morte e allora i suoi discepoli dicono ti facciamo scappare e nel Critone c'è Socrate che risponde ai suoi discepoli che vogliono farlo scappare evadere mettendo in scena un suo incontro con le leggi di Atene le quali le leggi di Atene gli dicono questo ma scusa tu hai accettato le leggi puoi riconoscere diciamo il vantaggio che le leggi civili di Atene ti hanno dato perché ti hanno permesso di avere il riconoscimento da parte di tuo padre e di tua madre e ti hanno anche dato diciamo la paideia la educazione ti hanno fatto educare per legge hai avuto questo vantaggio da parte del sistema di leggi della città di Atene e adesso che invece la legge ti colpisce tu decidi di sottrarti a questo e allora Socrate risponde ai suoi discepoli mi sembra giusto diciamo che uno decida a un certo punto per il suo interesse personale di non sottostare la legge quando invece ha accettato questo patto sociale e ne ha avuto anche i vantaggi e questo patto è quello che regge la civiltà ateniese e quindi se comincio io a sottrarmi alla legge vuol dire che anzi fa dire alle leggi il fatto che se lui si sottrae per suo interesse personale la legge in realtà distrugge l'intero sistema si prende una responsabilità di distruggere la polis e quindi dice io non lo faccio non lo faccio perché incoscienza praticamente Socrate dice le leggi hanno dato le leggi hanno tolto siano benedette le leggi questa è la posizione nel critone espressa da Socrate e quindi da Platone questa cosa ci ricorda Giobbe il libro un altro diciamo libro paradigmatico perché Giobbe se vi ricordate viene sottoposta a una prova terribile da parte di Dio e viene distrutta la sua famiglia vengono distrutte le sue migliaia di cammelli e di pecore a un certo punto viene anche colpito lui stesso nella sua persona e quindi sua moglie lo istiga a smettere di essere così devoto al Signore che lo colpisce così duramente e in una frase diciamo un po' simile concettualmente a quella che dice Socrate Giobbe dice il Signore ha dato il Signore ha tolto sia benedetto il nome del Signore e la cosa diciamo rimanda anche in un certo senso alla posizione che prende Gesù nel Vangelo dove dice nel Gezzemani dice io vorrei qualcosa di genere io vorrei che se ce puoi Padre allontana da me questo calice ma sia fatta non la mia volontà ma sia fatta la tua volontà cioè questo quindi tutti questi tre esempi diciamo veramente paradigmatici per l'intera nostra civiltà Socrate Giobbe e il Gesù dei Vangeli si prospettano un rapporto nei confronti dell'istanza superiore l'istanza che stabilisce la legge diciamo così come una abdicazione della propria interesse personale come un'abdicazione di coscienza diciamo della propria interesse personale rispetto all'interesse generale che è rappresentata da questa istanza superiore e quindi dalla legge nelle sue varie forme io per non complicare diciamo troppo le cose parlerò essenzialmente della coscienza intesa nel miglior modo possibile perché la coscienza è un campo continuamente attraversato da autogiustificazioni quindi in generale pressoché tutti sono in buona fede anche i più malvagi perché i meccanismi di autogiustificazione sono sempre potentissimi cioè un malvagio che non giustifica se stesso ma dice io faccio il male per il male è un genio di chiarezza ma è assolutamente diciamo rarissimo una lucidità su se stesso di questo genere in generale la nostra coscienza è continuamente ammantata di procedimenti di autogiustificazione e quindi la buona fede in generale è l'ultima istanza la buona fede diciamo è una cosa molto sospetta perché è l'ultima istanza di tutto il processo di autogiustificazione che noi abbiamo però io adesso tralascio diciamo questa complicazione per parlare di coscienza che mi sembra diciamo che posso intuire essere la coscienza buona ecco questa coscienza buona ma anche quella cattiva in realtà non a caso Socrate aveva adottato il termine gnofisi auton cioè conosci se stessa cioè la vera impresa eroica è quella di conoscere se stessa cioè quella di rompere i meccanismi dell'autogiustificazione per avere chiarezza su se stessa e chiarezza su se stessa è lo sforzo della coscienza la quale non è tanto un fatto diciamo estremamente soggettivo ma è invece un atto di oggettivazione di sé la coscienza di sé è come assumere uno sguardo esterno che ti giudica per avere una coscienza uno deve avere uno sguardo deve trasferire al di fuori di sé il proprio sguardo e vedersi come se fosse un altro cioè è la capacità di ciascuno di noi di tradurre l'io in lui o lei diciamo in questo modo questo e la voce della coscienza risuona sì diciamo nell'intimo ma essenzialmente come voce di una comunità ideale che dall'esterno ci guarda e ci giudica questa è la capacità di avere coscienza è questa questa è la capacità di oggettivare se stesse e che cosa c'è diciamo alla base di questa oggettivazione del sé c'è la capacità di avere di comprendere di avere come continuamente attuale in se stesse la propria storia individuale o collettiva e cioè alla base di ogni coscienza etica ci sta quello che Socrate chiamava riminiscenza Platone chiamava riminiscenza che la Bibbia chiama secher il ricordo e come funziona diciamo il ricordo come fondamento della nostra capacità di comprensione non soltanto di noi stessi ma dell'altro e di noi stessi come altro cioè vedendoci dall'esterno funziona in questo modo funziona prendiamo per esempio un testo biblico come per esempio Levitico 19 34 o tutti i passi che parlano dello straniero dove si dice una cosa molto importante molto sottile e cioè si dice tu tratterai bene diciamo così lo straniero perché tu sei stato straniero io sono il Signore Dio tuo e cioè si dice tu adesso non sei più io ti sto comandando una cosa in un momento in cui tu non sei straniero ma ti comando il ricordo di te stesso come straniero in modo che tu possa avere una capacità di identificazione nell'altro anche se la tua condizione non è più quella cioè la memoria quindi fonda la memoria di te passato la tua esperienza passata l'esperienza del tuo nefesh cioè del tuo stato d'animo di straniero la memoria di questo se tu riesci ad attualizzare perché la memoria è quello che agisce continuamente su di noi nel presente ecco la selezione dell'esperienza che continua ad essere attiva su di noi questa è la memoria ecco questa memoria fonda la nostra capacità di comprensione nel momento della nostra forza noi ci ricordiamo del momento della nostra debolezza e comprendiamo quindi il debole questa è una affermazione che fonda il principio stesso di uguaglianza di uguaglianza di dignità oppure come è detto in Deuteronomio 24-18 mio padre era un arameo errante adesso che sono sulla terra io mi ricordo che in realtà discendo da un nomade da un'erranza ecco questo è importante diciamo sul fatto che non importa soltanto ricordare storicamente di quanti italiani sono stati all'estero sono stati trattati come attualmente noi trattiamo in genere diciamo lo straniero eccetera eccetera parte questo è che l'esperienza della debolezza è l'esperienza umana di ciascuno di noi cioè del fatto che siamo stati infanti siamo stati debolissimi siamo stati soggetti di cura come ricordano le leggi a Socrate perché le leggi ricordano esattamente questo tu hai potuto avere il vantaggio delle leggi che ti hanno dato il riconoscimento da parte dei genitori e ti hanno dato l'educazione nella tua infanzia ora diciamo che sei maturo e che anche il potere della mente e il potere magari di scappare dal carcere di sfuggire concretamente alla condanna tu ricordati invece di questo cioè del fatto che ricordati della tua debolezza e quindi diciamo la memoria è soprattutto la memoria del bene del bene ricevuto nel momento della debolezza e infatti diciamo la questione del riferirsi che cosa mi dice la coscienza quando vale la pena di ribellarsi contro la legge in termini biblici è proprio diciamo quando la legge non ha memoria della debolezza non ha memoria della dignità della debolezza dove dice per esempio il profeta Isaia guai a coloro che emanano leggi inicque per togliere ciò che è dovuto ai poveri e per depredare dei loro diritti i miseri del mio popolo è molto chiaro diciamo questo circuito tra ricordati che anche tu sei stato nella debolezza la legge iniqua è quella che ha dimenticato la debolezza ora e quindi diciamo il problema di quanto la coscienza possa corrispondere o non corrispondere alla legge è continuamente diciamo un atto drammatico che attraversa i testi classici cioè i testi dell'attualità siamo in un periodo in cui si sta discutendo di stati di eccezione è noto a tutti forse quello che è stato ultracitato di Carl Smith che dice che è sovrano colui che decide dello stato di eccezione dopodiché succede che si moltiplicano magari gli stati di eccezione al fine di essere sovrani questo qui è il meccanismo circolare diciamo della sovranità cioè lo stato d'eccezione è quello in cui si può sospendere la legge un esempio classico l'abbiamo nella guerra al terrorismo sul fatto che adesso è messa in discussione la sospensione della legge per poter liberamente torturare i prigionieri Guantanamo eccetera adesso è la cosa che diciamo che Obama sta discutendo rispetto al passato di Bush e sulla questione della tortura e della sospensione della legge o sulla interpretazione diciamo liberamente feroce della legge è una questione che ha posto il nesso tra legge e verità e cioè la questione che se la tortura sia uno strumento per ottenere la verità ossia uno strumento fondamentalmente per ottenere la menzogna la menzogna la menzogna precostituita questo rapporto appunto tra della verità attraverso la cultura la tortura scusate oppure della verità o della menzogna attraverso la tortura è uno dei punti chiave di un grande rivolgimento riguardo ai sistemi giuridici europei intorno all'epoca delle rivoluzioni e dell'illuminismo nel senso che proprio diciamo il perno per ruotare la concezione stessa della legalità e del suo rapporto col vero dell'inchiesta dell'indagine e del suo rapporto col vero avverteva sulla questione della tortura in Italia abbiamo avuto diciamo grandissimi esponenti di questo perno uno è Cesare Beccaria l'altro è Pietro Verri e infine Alessandro Manzoni sono persone che hanno posto esattamente questo il rapporto messo l'innesso tra verità e tortura verità e legge la questione trovo che per esempio si possa interessante diciamo notare uno dei testi meravigliosi mi pare di Manzoni che è quello della storia della colonna infame che era un allegato che voleva mettere i promessi sposi perché raccontava del processo avvenuto nel 1630 contro i supposti untori che avrebbero sparso la peste a Milano che è diciamo il quadro entro cui si svolge la storia dei promessi sposi già il Verri Pietro Verri aveva scritto appunto nell'onda dell'illuminismo lombardo aveva scritto una cosa molto importante su quello stesso processo del 1630 e aveva sostenuto sostanzialmente che il sistema era sbagliato perché era un sostenitore del cambiamento completo del sistema il Manzoni gli fa un'obiezione e cioè gli dice guarda che tu rischi di avere una tesi di relativismo storico perché non prendi in considerazione il fatto che quei giudici potevano rendersi conto di quello che stavano facendo di sbagliato tu stai giudicando il sistema nel suo complesso non metti in luce il rapporto tra coscienza singola del giudice e la legge che sta applicando e quindi diciamo qual è il suo rapporto di coscienza con la verità che vuole storcere attraverso la tortura naturalmente diciamo la risposta sulla tortura lo davo adesso per scontato è assolutamente ovvia e cioè il fatto che con la tortura fai dire tutto quel che vuoi a chiunque sostanzialmente questa è la tesi diciamo assolutamente lucida e chiara da parte degli illuministi e invece Manzoni dice i giudici potevano decidere potevano applicare diversamente il sistema legislativo potevano prendersi conto che stavano arrivando al falso e fa una meravigliosa disanima di quali sono le logiche che i giudici hanno tenuto per esempio dei fatti diciamo che a noi risuonano con grandissima attualità per esempio dicendo i giudici forse pensavano ma che figura ci facciamo una volta che abbiamo preso questo poi deludere l'opinione pubblica e dirgli abbiamo sbagliato dobbiamo ricominciare dal capo quindi è meglio andare avanti oppure dire l'opinione pubblica vuole non soltanto diciamo non dobbiamo fare brutta figura noi come casta diciamo così l'opinione pubblica vuole dei capri espiatori noi dobbiamo darglieli se no magari succede di peggio ecco tutto è fatto una disanima diciamo di quali sono i meccanismi che possiamo vedere diciamo all'opera nei giorni nostri di quale potrebbe essere stata questa operazione dei giudici lui lo pubblica nel 1842 c'è abbastanza vicino eppure in un documento la tesi di questa è la polemica col Verri e di questo tipo accusando il Verri di questo relativismo storico tu dici a quei tempi non mi interessa tanto se uno potesse rendersi conto o no era il sistema che è sbagliato noi cambieremo il sistema ma invece Manzoni dice è importante sapere che in quel tempo la coscienza poteva rendersi conto questo è interessante perché io ho trovato diciamo in un documento ufficiale del Vaticano in cui si sostiene che la Chiesa secondo dottrina è contemporaneamente peccatrice nella sua lato storico umano e invece perfetta nel suo lato diciamo metafisico e quindi sì un documento uscito nel 1999 nell'ambito diciamo del Giubileo come preparazione del Giubileo in cui si dice ma noi possiamo mentre il Papa sta chiedendo scusa per le colpe del passato della Chiesa noi possiamo giudicare oggi con i nostri occhi di oggi quello che faceva l'Inquisizione mettiamo nel 600 oppure questa cosa qui è diciamo falso perché in realtà lì il criterio e il senso comune era completamente diverso dal nostro e quindi diciamo si subentra una specie di giustificazionismo e di relativismo storico che dice noi forse dobbiamo sospendere il giudizio non rientra nella nostra responsabilità diciamo quello di giudicare quel che è avvenuto perché è impossibile giudicare diciamo in base ai nostri credenti sarebbe ingiusto sarebbe scorretto dal punto di vista anche scientifico storiografico giudicare sulla base diciamo delle nostre conoscenze o delle nostre concezioni di oggi quello che decisero allora mi stupiva questo documento non mi stupiva dal punto di vista politico perché è diciamo una tipica posizione opportunistica per non prendersi diciamo delle responsabilità ma mi stupiva l'attrito che questo documento faceva nei confronti di una posizione molto netta che invece prende Manzoni che invece si sta giudicando e come senza remore un processo del 1630 cioè non si pone il problema troppo di dire ma qui a quel tempo il senso comune era questo come facevano a intenderlo diciamo i giudici questa cosa lui dice potevano intenderlo benissimo non è che l'essere umano sia cambiato così decisamente e in più diciamo c'è un'altra cosa diciamo che smentisce nettamente questo relativismo storico ed è un testo di grandissima lucidità uscito nel 1631 di Friedrich Franz Pehe un gesuita che descrive la sua esperienza di confessore delle supposte streghe in cui quindi ha esperienza di tutte le atrocità che vengono compiute di confronti e in cui si vede che per esempio uno accusato di stregoneria se si difendeva e sapeva difendersi si diceva ecco vedi è ispirato dal diavolo tant'è vero che parla benissimo e sa difendersi bene se non sapeva difendersi vedi non sa difendersi vuol dire che è colpevole quindi questo meccanismo fatale di colpevolizzazione e Fospey lo mette chiarissimamente in luce per concludere poi con una dice a un certo punto i giudici pensavano di fare del bene ma non interrogavano abbastanza la propria coscienza c'è proprio una riga sul fatto che dice ma in realtà come io dice Fospey come io potevo rendermi conto nel 1630 cioè dal 1612 fino al 1630 di cosa succedeva anche questi potevano rendersi conto sono qui a testimoniare che non è tanto relativismo storico dire che questa roba qui è male e che non produce verità ma produce menzogna sistematica ma questo è quello che dice Fospey e alla fine fa nell'ultimo capitolo dice adesso vi racconto una storia narrata dai grandi storici romani cioè che Nerone ha incendiato Roma dopodiché ha accusato i cristiani i cristiani sono stati torturati i cristiani hanno confessato sotto tortura e questi qui sono trattati come beati o santi come martiri però loro hanno confessato di essere dei malvagi perché sotto tortura si confessa di essere dei malvagi se chi tortura desidera che tu confessi questo e come la mettiamo così conclude Fospey dice chi avesse assistito come io assistito all'esercizio della legge come voi la state esercitando avreste dubitato senz'altro di non se voi foste sottoposti a questo avreste dubitato sulla vostra capacità di reggere e anche voi stessi anche un santo avrebbe dichiarato di essere uno stregone ecco quindi questo per dire diciamo della importanza e ho partito dell'importanza di non lasciarsi ingannare da questo storicismo volgare di tipo giustificazionista per cui delle cose avvenute vent'anni fa non possiamo più giudicare oppure trecento anni fa non possiamo più giudicarle perché cambiati sono continuamente diciamo come fosse una roba consumistica i nostri valori di riferimento questo qui è un inganno io ero partito dal dire da qualunque remoto tempo ci parlino i classici ci dicono qualcosa di attuale e sono classici per questo in un certo senso c'è una grande inerzia su alcune cose di riferimento e qual è il riferimento diciamo che mi pare rimanga abbastanza saldo come buon senso di partenza come bandolo della matassa per giudicare sui nostri comportamenti è quello che si chiama la regola aurea di Rabi Hillel che in realtà è attribuito a Rabi Hillel del trattato talmudico Shabbat al foglio 31 però è trasversale a tutte le culture e dice una cosa estremamente sensata molto difficile forse da seguire forse che non si riesce che non riesce neanche a permetterci di risolvere tutti i casi nella loro complessità ma dice sostanzialmente non fare ad altri ciò che non vuoi sia fatto a te questo è importante perché non soltanto è un ottimo principio detto infatti regola aurea ma riprendendo quel che dicevo all'inizio non fare ad altri ciò che non vuoi sia fatto a te c'è dentro quel sistema di oggettivazione che è la sorgente stessa della coscienza e cioè quello che è fatto a te sappi che non piace che molto probabilmente diciamo così non piace anche ad altri perché tu hai la possibilità di identificarti ampiamente nell'altro se tu hai sviluppato uno sguardo che vede dall'esterno te stesso e quindi vede in te stesso anche un altro e quindi l'altro come un te stesso questo dice la regola aurea a fondamento quindi diciamo di una base di partenza di uguale dignità diciamo degli esseri umani e questo ci dice che questo valore questa cosa è stata detta formulata chissà quanto tempo fa comunque scritta circa duemila anni fa e quindi diciamo questo qui denuncia il fatto che certi punti di riferimento non sono così labili non sono così alla moda non sono così coinvolgibili in un relativismo storico opportunista e volgare ma che tranquillamente ci parlano ancora adesso grazie bene ringraziamo Stefano Levi che ci ha condotto quasi diciamo per mano ha mosso la nostra intelligenza a seguire percorsi forse inusuali ma che peraltro credo abbiano sollevato dal profondo anche della nostra riflessione della nostra coscienza aspetti o elementi che ciascuno di noi porta in sé io rimango sempre affascinato della sua capacità di trarre per esempio da versetti biblici che ci siamo ripetuti mille volte trarne significati profondissimi e illuminarli sempre di nuovi significati che sono utili per una riflessione anche sui temi attuali insomma c'è un testo classico hai fatto l'elogio dei classici c'è un testo classico per l'appunto la Bibbia la riflessione di Claudio Magris avete visto si è conclusa con un elogio della legge della legge fredda quasi un elogio positivistico sarebbe piaciuto ai positivisti ideologici sotto certi aspetti l'ultima sua riflessione chi sono i positivisti ideologici sono coloro che dicono che non c'è una giustizia separata dalla legge sono coloro che identificano legge e giustizia solo la legge può dire qual è la giustizia e nessun'altra autorità può contrapporre alla nozione di giustizia contenuta nella legge un'altra concezione Stefano Levi diciamo ha prospettato un punto di vista diverso adesso tu mi contraddici o mi contraddirai se dico se ho inteso male il punto centrale a me particolarmente mi ha molto colpito questa che forse è la regola aurea l'espressione regola aurea l'hai riferita a non fare agli altri ma forse si potrebbe anche dire che la regola aurea è il ricordati della debolezza ricordati di essere stato debole ecco in fondo la legge ingiusta quella contro la quale è eticamente giusto ribellarsi è la legge che non ricorda della debolezza delle debolezze sotto certi aspetti si potrebbe dire che questo criterio di giustizia è simile a quello che sta nei fratelli Karamazov di Dostoievski la massima ingiustizia quella intollerabile e la violenza inferta all'innocente e l'esempio di innocente su cui non ci può essere discussione che Dostoievski dice tutti noi siamo colpevoli siamo troppo grandi per non per poter dire che siamo completamente innocenti ma l'innocente per definizione è il bambino allora ricordiamoci che siamo stati bambini cioè siamo stati esposti alla forza inermi alla forza altrui ecco la legge ingiusta è quella che non ha rimembranza di questa condizione primordiale degli esseri umani della debolezza della debolezza somma però detto questo ho l'impressione che come forse tutti i grandi temi anche questo non si prestia una soluzione pratica e cioè che questa nostra rinflessione ci introduca in un circuito tragico perché per combattere quella ingiustizia l'ingiustizia della legge che dimentica la debolezza per combattere questa legge bisognerebbe non essere più deboli cioè bisognerebbe che la forza si sia spostata dalla parte dei deboli cioè che i deboli siano diventati forti ma una volta che i deboli sono diventati forti avranno di fronte a sé i deboli e quindi diciamo il criterio della ingiustizia si presta a essere rovesciato continuamente una riflessione si potrebbe poi metto subito per dare la parola avremo tempo per una discussione c'è una un pezzo teatrale di Brecht che si chiama il cerchio bianco del caucaso in cui si racconta una storia che ha degli aspetti diciamo biblici sembra il giudizio di Salomone sono due madri un bambino conteso e viene la causa viene portata davanti a un giudice che si chiama il giudice Azak il quale è un giudice diciamo così in bilico tra il vecchio sistema e il nuovo sistema di potere la situazione di questa città del caucaso era una situazione in bilico tra il vecchio e il nuovo cioè tra vecchi aggregati di poteri cioè un vecchio sistema che vedeva una parte della città dalla parte della forza e l'altra parte dalla parte della debolezza e questa situazione si stava rovesciando bene questo pezzo teatrale che è ricchissimo di insegnamenti ci dice una cosa molto semplice che quel giudice o se volete tutti i giudici di quella città non riuscirono mai a fare giustizia in quanto operassero in una situazione di potere stabilizzata cioè in una situazione in cui si poteva dire alcuni sono i forti e gli altri sono i deboli non importa quali ma l'unico momento in cui questo giudice Azak che era un ubriacone uno sciagurato uno privo di valore suo che aveva una sua profonda umanità tuttavia questo giudice che ha fatto veramente giustizia l'ha potuto fare nel momento del trapasso del potere quando ancora non si poteva dire chi era il forte e chi era il debole ecco diciamo siamo in una situazione tragica in questo senso che tutti noi aspiriamo certo a stabilizzare la nostra esistenza collettiva quindi a consolidare i rapporti sociali ma consolidando i rapporti sociali si finisce forse quasi inevitabilmente per costruire e riprodurre sempre questa distinzione tra chi può e chi deve tra chi dispone della forza e di chi la deve subire diciamo il testo di Brecht ha un una vena profondamente decostruttivistica diciamo così forse rivoluzionaria perché ci dice che gli unici momenti della giustizia sono quelli del conflitto vabbè chiusa la parentesi insomma con questa considerazione un po' pessimistica ma forse che corrisponde alla realtà delle cose l'idea di costruire una volta per tutte la giustizia in terra oltre che essere un'idea utopica è anche un'idea pericolosa l'unica idea concreta è che si debba sempre poter agire per la giustizia questo fosse il senso della democrazia che siano aperte le condizioni per agire per bene certamente allora adesso se c'è un microfono in sala e qualcuno chiede la parola ce l'avrà compatibilmente con il numero delle domande e poi lasceremo a Stefano Levi la possibilità di fare un commento di trarre qualche riflessione conclusiva io vorrei io vorrei dire solo sono io sono qua vorrei dire solo una cosa che la forza dei deboli è proprio la coscienza e su questa forza si basa la possibilità della democrazia grazie mi chiamo Carlo Rossetti vorrei fare due osservazioni a proposito di ciò che ha detto il professor della Torra molto brevi la prima riguardo Alessandro Manzoni Manzoni nella storia della colonna infame mette in evidenza una questione che ci riporta 25 aprile la questione è che il giudice che pretende in quel caso di aver agito in buona fede non può mai violare una particolare confine che è quello di ritenere di essere in una posizione di autorità e di potere tale da avere in mano la verità che di conseguenza giustifica qualsiasi qualsiasi azione anche punitiva e questo è molto importante perché ci riconduce alla dichiarazione alla coerzione dei diritti umani delle libertà fondamentali che è un documento che ci dice quanto noi siamo colpevoli ed è un documento che è stato scritto praticamente per ricordare la fine dei campi di sderminio per ricordare che il razzismo è una cosa che non potremmo mai accettare e io trovo estremamente interessante perciò che lei abbia fatto questo riferimento oggi 25 aprile a Manzoni la seconda osservazione che vorrei fare è la seguente è noto che nel diritto israeliano c'è il principio della buona fede ma il principio della buona fede è inteso nello stesso senso di Giobbe in modo perfetto simmetrico e senza differenza cioè è il principio in base al quale tu devi rispondere delle tue azioni di buona fede nei confronti del prossimo cioè c'è un principio di responsabilità che implica un giudizio sulla correttezza delle tue azioni è interessante notare sul piano comparato come in alcune delle più importanti sentenze di giudici inglesi in caso di corruzione finanziaria si chiede al direttore dell'impresa al grande manager al capo se ha preso le misure adeguate per assicurarsi che il cattivo comportamento dell'impresa le frodi a danno degli risparmiatori fossero sapientemente e razionalmente prudentemente calcolate in anticipo e siccome anche questi sono i diritti del 25 aprile e sono i diritti all'onestà e al rispetto dei lavoratori e all'uguaglianza dei diritti economici e sociali le ringrazio anche di questo suggerimento su Giobbe che è magnifico buongiorno secondo me era molto interessante l'osservazione che ha fatto il professor della torre sulla questione del ricordo perché non so se qualcuno in questa sala ha visto il film che consiglio che si chiama Memento di Christopher Nolan e in quel film c'è proprio secondo me la concretizzazione di quello che il professor della torre diceva cioè che se uno perde il ricordo di se stesso e della propria debolezza ed è quello che capita nel film al protagonista perché ha una malattia particolare che gli fa perdere costantemente la memoria perde proprio l'identità e perde la possibilità di comportarsi come uomo autenticamente tale e quindi perde anche la possibilità della compassione e dell'identità che ci può essere con l'altro e che come diceva il professore giustamente secondo me è fondamentale la regola aurea in realtà dovrebbe essere un principio costantemente impresso in ognuno di noi ed è anche molto presente in alcuni grandissimi testi anche dell'ottocento e del novecento come ad esempio il Dracula di Bram Stoker libro molto sottovalutato ma che secondo me andrebbe riletto con più attenzione in questo volume c'è proprio la figura di Dracula che è contrapposto a questo insieme di persone che lottano contro il male incarnato da Dracula e Dracula è colui il quale proprio non sa vedere il mondo con gli occhi dell'altro e è quello che in semiotica si potrebbe dire il monoprospettico per eccellenza cioè una soggettività assoluta che non diventa mai relativa e come insegnano i semiotici e non solo loro la multiprospetticità cioè la soggettività relativa è il punto massimo cui può arrivare l'uomo e quindi concludo questo intervento dicendo che secondo me i due punti fondamentali perché un uomo sia un buon democratico e sia anche un uomo veramente tale sono proprio la capacità del ricordo e la capacità di interrelarsi con gli altri attraverso proprio questo specchio che possono essere gli altri cioè come dice Svetan Todorov in suo bellissimo libro che si chiama La conquista dell'America bisognerebbe arrivare a vedere l'altro in se stessi e l'io negli altri e sarebbe questo il punto di massima secondo me il punto massimo a cui l'uomo può giungere e concludo dicendo ricordando una frase del grande Contini che in un saggio su Montale diceva giustamente la memoria non è mai futile e secondo me questo potrebbe appunto essere impresso nel nostro animo come una frase che va ricordata proprio perché la memoria della debolezza è quello che fa sì che noi siamo veramente uomini grazie Maria Grazia Arnaldo io mi riferisco all'ultima a come finisce lo scritto di Magris che diceva le leggi sono anche poesia legiferare significa anche questo io però credo di vivere in un altro mondo perché se voglio cerco di fare una trasposizione di questa di questa frase e mi guardo intorno le leggi le leggi io non vedo nemmeno che siano come dire frutto di verità men che meno di poesia e non so nemmeno se sono frutto di coscienza e mi chiedo se c'è una coscienza di quale coscienza allora la domanda l'individuo cosa deve fare il singolo come Socrate oppure ribellarsi e come ribellarsi non mi pare che ci sia la possibilità di incidere e allora forse solo questa ricerca come diceva il professor Zagrebelsky questo cammino continuo per creare le condizioni della giustizia grazie buongiorno io sono Diego Sarno sono uno di quei 300 giovani che sta vivendo l'esperienza del campus all'Iroshima nella relazione mi è venuto evidentemente poi esplicitato da entrambi la questione dell'obiezione di coscienza penso che in questo momento ci sia bisogno di obiettare per darci una mano a salvaguardare quello che oggi è la democrazia quello che oggi è il nostro Stato detto questo voglio svolgere una riferirvi una domanda farvi una domanda un po' più sull'attualità secondo voi su che cosa oggi c'è bisogno di obiettare per darci appunto una mano a salvaguardare quello che è lo schema democratico oggi 2009 grazie scusi posso provare si sente ah sì scusate io come mestiere faccio lo storico e devo dire che naturalmente ho apprezzato profondamente questa straordinaria cavalcata che ha fatto Claudio Magris regalandoci un testo su cui dovremo naturalmente profondamente riflettere io vorrei però fare una devo dire che una sola obiezione avrei perché esaltare tanto Calun che sosteneva una tesi che era assolutamente aberrante fortunatamente Calun non ha vinto se avesse vinto noi avremo ancora la schiavitù in America ora non è che lo storico non abbia il diritto di esplorare come ha fatto Salvadori in un bellissimo libro Calun ma bisogna tener conto che è giusto che la storia cancelli anche dei pensieri che a un certo punto non gli servono più a niente questo non è un discorso vano ma si connette chiaramente con un'esperienza personale fatta diciamo negli ultimi mesi è morto un mio caro amico che era un bravissimo storico probabilmente il migliore allievo di Berengo a Milano e sono rimasto molto colpito ed è la seconda volta che mi capita di essere sorpreso di pensare che uno che aveva delle radici assolutamente laiche come le mie in realtà a un certo punto preparando meticolosamente il senso della propria cerimonia mortale abbia scelto due pezzi uno il Vangelo di San Matteo ama il prossimo tuo come me stesso e l'altro come te stesso scusate e l'altro il il testo di Kant su che cos'è l'illuminismo è chiaro che c'è una relazione ma è anche chiaro che bisogna stare attenti con le citazioni perché per esempio e questa è una domanda che vorrei fare soprattutto a Paolo Levi che ogni tanto ascolto con grande ammirazione in un programma ho ascoltato soprattutto e che è fratello di un mio carissimo amico con il quale ho litigato tantissimo che è questa nel fare le citazioni bisogna stare molto attenti perché io sono andato a fare una ricerca ho trovato difficilissimo capire chi ha detto questa frase per primo è Paolo o Matteo se si cita Paolo la frase prossimo vuol dire universalismo se si cita Matteo si parla di un pubblicano che è fortemente connesso col mondo ebraico ma in realtà la frase deriva da quel levitico che lei ha citato precedentemente ora nel caso del levitico è vero che c'è il senso dello straniero che bisogna accogliere ma il prossimo è il prossimo di religione e questo vale la pena come storico devo dire che non sono affatto d'accordo con l'esaltazione di Manzoni che ha le sue spietatezze antilluministiche che ha un solo grosso vantaggio che essendo parente anche carnale con i verri in realtà ha usato gli stessi codici ma ha fatto una lettura cattolica di quello che invece secondo me con molta ma molta più apertura faceva Pietro Verri nel senso che Pietro Verri aveva assistito sul serio a una tortura aveva visto una condanna a morte direttamente aveva spiato l'ultimo momento di una persona e a mio parere in questo senso Manzoni si salva la coscienza ma dal punto di vista della cultura i medici non sapevano che cos'era la peste e questa è la variante che gli storici portano nel giudicare la cosa guardate che solo che Manzoni era ancora convinto che fossero i fluvi scusate Manzoni muratori e che solo dopo è cominciata una teoria per cui la peste non è stata più diffusa dagli untori gli untori erano una realtà storica sballata ma in qualche modo presente nella cultura quindi i giudici non si potevano sottrarre a un'idea comune che in qualche modo coinvolgeva questo per dire che il nostro mestiere è sottovalutato in questo momento sopraffatto dalla pubblicistica dei tuttologi ma forse ancora un senso penso che bisognerebbe rileggere questo grande libro scritto da Nadel sulla eresia di Spinosa come vogliamo ci sono altri che chiedono la parola io direi diamo ancora la parola a due persone così possiamo ascoltare la replica di Stefano Levy con il tempo che gli dobbiamo concedere prego allora ho ancora un po' di spazio grazie sono libera io anch'io come altri ascoltatori hanno già sottolineato ho colto la suggestione del rimando al criterio dell'identificarsi con l'altro come radice diciamo della condivisione quindi radice dell'etica di un'etica possibile riflettersi nell'altro e riflettere l'altro in noi quindi con la categoria della memoria del ricordo eccetera non per niente mi richiama anche in fondo la nostra natura biologica che pare essere proprio fatta apposta per questo riflettersi penso alle cellule specchio che sembrano essere proprio nella nostra mente il luogo deputato alla possibilità della identificazione e ce l'hanno anche gli animali quindi anche loro trovano sostegno quasi in naturalmente biologicamente nel riconoscimento dell'altro in sé e quindi nella possibilità di costruire una convivenza di fare gruppo mi chiedo di là di questa sicura suggestione come è possibile poi comportarsi quando le aree di esperienza che ci si presentano oggi in un momento di grande evoluzione a tutti i livelli culturale tecnica scientifica eccetera di grandi cambiamenti quando questo cuore caldo diciamo che ritroviamo in noi in una situazione del tutto nuova non ci può venire in aiuto per immaginare il cuore caldo degli altri voglio dire quello pensando anche alle aree estreme del dibattito sulla vita e la morte quello che a me può sembrare bene e quindi una mia mi chiedo una visione spontanea a un certo criterio per l'altro appare male perché le aree di esperienza non sono ancora state come dire del tutto interiorizzate quindi è difficile riconoscersi voglio dire tutto questo per dire che secondo me è necessario si pone il grande problema di una ridefinizione anche culturale quindi un'analisi razionale con tutti i criteri scientifici possibile per ridefinire le grandi categorie sulle quali poi basiamo le nostre scelte etiche parlo del concetto di natura o di uomo o di specie chi siamo noi perché a volte adoperato impropriamente il concetto di naturale ci può far temere l'artificiale quasi che solo il naturale inteso come spontaneo fosse bene e l'artificiale fosse male voglio dire è in gioco adesso secondo me una necessità di ridefinire le categorie fondanti di umano di natura di cosmo e via dicendo e questo lo dobbiamo fare anche con uno sforzo di pensiero senta soltanto per precisare che fino adesso si è parlato di coscienza in opposizione alla legge e quindi con tutte le conseguenze anche drammatiche che questo ha per l'individuo stiamo andando oggi in una direzione un po' diversa perché l'obiezione di coscienza è ritenuto un diritto della persona per cui faccio il caso dell'aborto l'obiezione di coscienza può entrare in netto conflitto con l'interesse invece della persona che intende abortire e quindi impedire l'esercizio legittimo di un diritto previsto alla legge mi chiedo forse per Tachembeschi questa domanda qual è al fondo di questa tendenza che tende in se stessa la legge a essere contrastata attraverso un diritto di chi la legge intende non esercitarla grazie bene grazie mi dispiace magari altri avrebbero desiderato formulare altre domande ma sono quasi quasi un'ora e tre quarti che siamo qui congratuliamoci intanto tra noi medesimi perché no e lasciatemi dire che tra le tante riflessioni che si possono fare su queste giornate una forse su tutte domina cioè questo bisogno di trovare delle occasioni di riflessione di concentrazione che forse la routine quotidiana non ci consente abbiamo un bisogno di vorrei dire di silenzio non è improprio dire di silenzio perché abbiamo parlato tutto il tempo ma cioè di momenti in cui possiamo ascoltare noi mettendoci in una posizione di silenzio per fare maturare delle riflessioni se c'è un tempo in cui si parla tanto e si riflette poco è proprio il nostro quindi diciamo rallegriamoci del nostro bisogno anche della nostra capacità di resistenza vuol dire che le nostre facoltà mentali non si sono ancora o non sono ancora state atrofizzate completamente detto detto questo la parola a Stefano Levi riprendo la premia osservazione che faceva Zagrebelsky cioè sul cerchio bianco del caucaso cerchio di gesso il gesso del caucaso e sul fatto appunto che la giustizia riesce a essere come è rappresentata in un certo senso anche metaforicamente cioè su una bilancia quindi è nel momento di equilibrio tra uno stato e un altro stato diciamo anche se la bilancia vorrebbe dire un'altra cosa però già che ci siamo possiamo usarlo per dire così cioè nel momento di passaggio in cui non si sa chi sia chi abbia il maggior potere che forse in quell'istante può scattare il momento della giustizia diciamo così beh appunto è uno degli sforzi mi pare della democrazia perché se la vediamo dal suo lato da un certo suo lato la democrazia pretende il sistematico fallimento degli obiettivi perché mettiamo così come il mercato rispetto al liberismo cioè il mercato che funziona è un mercato che ha delle leggi che impediscono la spontanea tendenza di una ditta diciamo di diventare monopolista cioè di apprendere tutto il mercato quindi di distruggere il mercato diventando monopolista invece diciamo le regole liberali del mercato dicono fino a un certo punto poi ti taglio le gambe e così anche diciamo la democrazia fa così cioè ciascun gruppo politico o gruppo di interessi avrebbe spontaneamente l'idea di prendersi il 73% mettiamo così e ci dovrebbero essere diciamo da un lato il buonsenso e dall'altra parte delle norme almeno questo sarebbe nell'obiettivo della democrazia che se uno prende il 73% la volta dopo al 12% mettiamo una cosa così ma questo qui sarebbe l'idea cioè che chi vuole diciamo tutto il potere viene continuamente inibito dalle regole e soprattutto dalla mentalità e cultura democratica che sono votate a far fallire l'obiettivo finale di ciascuno spontaneo di ciascuno diciamo così questo sarebbe più o meno la cosa cioè la democrazia dovrebbe essere la cultura e la forma istituzionale che sistematizza il fallimento questo qui sarebbe la cosa mi sembra quindi in un certo senso il cerchio di gesso del caucas dice che il giudice funziona scusa non adotterai questa espressione come la regola aurea di biennale democrazia cioè non è non è una bella propaganda però è in realtà un suo sugo veramente interessante cioè veramente importante e cioè in un certo senso se ben ricordo per esempio Freud diceva che infatti la civiltà e forse anche il suo disagio nasce dal fatto che tu impedisci diciamo l'obiettivo di arrivare fino in fondo cioè mantieni una specie di frustrazione di fondo che da un lato istituisce la civiltà e la possibilità di rapporti reciproci dopo diciamo la legge della giungla chiamiamola così che addomestica la legge della giungla tagliando le gambe a chi invece prospetta di raggiungere i suoi obiettivi libidici o altre cose del genere più o meno cioè confessiamocelo poi magari non andiamo a dirlo in giro però è così ecco questa cosa qui per quanto riguarda l'obiezione di coscienza purtroppo c'è una una prova decisiva dell'obiezione di coscienza se riguarda la coscienza ed è il prezzo che uno paga facendo l'obiezione di coscienza questa qui è una prova dura in generale per esempio gli obiettori di coscienza sul servizio militare mettiamo anche gli obiettori di coscienza anche in israele per esempio pagano molto duramente la loro obiezione che abbiano torto ragione no non importa ma questo qui dice questo riguarda effettivamente la coscienza per quanto riguarda invece i medici in generale dalla obiezione di coscienza ritraggono nessun danno ma solo vantaggio questa è la questione questa qui è la prova è la prova per cui mettiamo che ci siano tre che dicono Dio mi dice così che non devo farlo e ce ne sono 57 che dicono benissimo così noi facciamo rispetto all'establishment un certo figurone e al tempo stesso ci asteniamo da operazioni che troviamo molto sgradevoli e poco remunerative quindi ci sono diciamo delle avanguardie magari di coscienza che però non pagano nulla per la loro esibizione di coscienza che sono avanguardie di gente che invece non interpella neanche vagamente la coscienza ma semplicemente si precipita su una breccia di interesse molto volgare ad anno effettivamente io risponderei così cioè se uno fa l'obiezione di coscienza lo dimostra attraverso e io ho fatto diciamo degli esempi classicissimi di obiezioni di coscienza Socrate Gesù cioè della roba piuttosto ponderosa diciamo così per dire che diciamo lì si mostra se uno effettivamente uno può essere d'accordo in disaccordo però lì si vede diciamo che prezzo uno è disposto a pagare sulla voce della sua coscienza per quanto riguarda la legge e la poesia cioè effettivamente se uno guarda la produzione legislativa in corso trovo che sono poesie un po' smoderne diciamo così come minimo diciamo cioè il fatto per esempio il fatto per esempio che uno dice mettiamo che sia abbastanza ragionevole che un manager guadagni molto di più di un operaio però questo dipende anche dal fatto che ha più responsabilità avete visto sulla T7 che invece la cosa diventa inversamente proporzionale cioè c'è stato il ministro Saccone già socialista il quale è un algebrico del socialismo nel senso che ha cambiato di segno completamente e ha deciso e ha deciso sperando di non essere beccato diciamo così ha deciso che invece la cosa diventava inversa cioè che uno quanto più era pagato tanto meno era responsabile e quanto meno venne pagato tanto più era responsabile questa è la cosa diciamo che mi sono sbagliato ma senz'altro il ministro Saccone è un uomo da bene e ecco questo per quanto riguarda che cosa si tratta di fare no? che cosa privilegiare adesso io penso che siamo in un periodo ci sono delle chine che le società attraversano che in un certo senso devono arrivare fino in fondo perché io credo che noi ormai stiamo già sono molto pessimista su questo diciamo su una china che deve arrivare fino a un fondo ci rincontreremo nel 2012 e probabilmente li rimbalziamo diciamo così lo dico così tanto cabalisticamente diciamo così però c'è una cosa che probabilmente ci tira un pochino verso il rattrappimento cioè io da giovane avevo imparato nei grandi movimenti diciamo degli anni 60 una cosa di grandissima importanza cioè il moltiplicarsi dei punti di vista ma non dei punti di vista delle persone soltanto ma dei punti di vista delle condizioni sociali e questo qui trovo che invece oggi si tratta di vedere che i punti di vista delle persone magari sono molti sono molte ma quello che fa norma è quindi non c'è tanto diciamo un pensiero unico quanto la tendenza a un punto di vista unico cioè che c'è un determinato strato sociale che rappresenta il punto di vista tutto il resto è anomalia rispetto a questo punto di vista e ho un po' la preoccupazione diciamo che noi qui siamo un pochino uno strato un po' omogeneo cioè gente che ha studiato di un determinato reddito eccetera e che invece una serie di persone che non vengono magari a sentire queste cose sono pochissimo rappresentate cioè noi abbiamo la presunzione forse di avere un pensiero forbito e diciamo molto disposto a parlare anche a nome o a vedere o a riconoscere pensiero anche altrui e così via ma spontaneamente stiamo un pochino ritirandoci in uno strato sociale diciamo di democrazia ridotto dal punto di vista della rappresentatività sociale e questo può darsi che senza rendercene conto noi favoriamo quello che è un processo in corso che è quello di stabilire che la governabilità è più importante della rappresentatività questa è la questione cioè per cui tutti cosa dobbiamo fare cioè secondo me adesso noi abbiamo una grande difficoltà perché i gruppi sociali sono molto disgregati non hanno un'identità chiara è difficile parlare di classi anche se ci sono molto di più di quanto uno non faccia fitta che non ci siano e il ministro Sacconi ha contribuito in un certo senso a chiarire che le classi ci sono e allora diciamo la questione è quella di organizzare probabilmente il nostro pensiero la relazione e anche forse la biennale della democrazia in modo che ci sia molta articolazione sociale il massimo di articolazione sociale perché altrimenti diciamo noi rimaniamo come un fortalamo credo che si chiami così nel West che riesce diciamo a spaziare molto con la testa ma in realtà rappresenta pochissimo questa è la mia preoccupazione questo è il compito probabilmente che dobbiamo avviare accettando quindi anche delle discussioni che sono meno concordi come tra noi ma magari invece dei dibattiti più aspri non tanto diciamo con altre posizioni politiche quanto con altri punti di vista sociali questo forse abbiamo perduto un po' questo allenamento che invece nella mia giovinezza era centrale cioè la sorpresa è il fatto che strati sociali molto diversi molto disparati dicessero la loro questo mi sembra che sia una delle cose da fare però ci vuole ancora un po' di tempo stiamo scivolando e continueremo a scivolare per un po' quindi la moltiplicazione dei punti di vista non intesa però all'interno di uno strato come moltiplicazione soltanto delle teste ma delle condizioni e voglio dire ancora una cosa cioè la questione di ammerai il prossimo tuo come fosse te stesso possiamo intenderla in tantissimi modi c'è anche la questione di tu sei stato straniero in Egitto che viene letto tu sei stato straniero rispetto a te stesso ma non come straniero in genere possiamo leggere in un buco di modi io trovo che è del tutto lecito e anzi è anche necessario togliere la potenzialità di espressione che ha una cosa e sottrarla dalla versione strettamente ristretta che magari storicamente può aver avuto io credo che questo è diciamo se noi consideriamo un testo come un testo classico abbiamo tutto il diritto e forse anche il dovere da permettergli di parlare a noi oggi da non respingerlo soltanto nella sua dizione del tempo in cui è stato scritto perché la sua importanza il suo prestigio deriva anche in gran parte da questo non a caso Brecht interrogato su quale fossero diciamo tra i testi più importanti della sua bibliografia gli ha detto ma senza dubbio la Bibbia questo disse Brecht e voglio concludere con una cosa la famosa regola aurea trasversale eccetera che precede la stesura dei Vangeli e precede anche Paolo di Tarso se Paolo di Tarso ha detto qualcosa di diverso dai Vangeli l'ha detto prima perché Paolo di Tarso le lettere sono precedenti alla stesura dei Vangeli però c'è una cosa che mi sembra interessante la dizione di Rabbi Hillel è in negativo e dice non fare ad altri ciò che non vuoi sia fatta a te la dizione che invece è riportata nei Vangeli come affermazione di Gesù è positiva e dice fai ad altri ciò che vuoi sia fatta a te io devo confessare diciamo che trovo più cauto il negativo perché il fai ad altri ciò che vuoi che sia fatta a te è un principio di assimilazione mentre non fare ad altri ciò che non vuoi fatto a te è qualcosa che lascia maggiore apertura maggiore respiro all'alterità di esistere grazie 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 grazie